Chiedono, ma da che cosa dobbiamo liberare questa città? Ma amici miei, la dobbiamo liberare dalla mala politica che in 25 anni non ha creato le condizioni per lo sviluppo della città. Roberto, questo rumore di questo motorino lo dedico a te. E soprattutto dobbiamo liberare questa città dalla menzogna politica, ma è mai possibile che questo sindaco da 25 anni promette l'allargamento del territorio, ogni 5 anni ne ha fatto la sua fortuna politica, ma è mai possibile? Ogni 5 anni mostra la stessa cartina e forse io ce l'ho appresso, ma non credo però stavolta, forse quella l'ho dimenticata. Dunque ve lo faccio vedere al comizio al quale siete invitati a partecipare, al comizio che terremo venerdì alle 20, mi dicono alle 20, in piazza di membranza, quindi venerdì qui alle ore 20, in piazza di membranza, potrete vedere il nostro comizio. Allora io a questo punto la farei, ma io la taglierei qua questa cosa.